Musica Ben trovati a questo nuovo appuntamento con la voce del Consiglio, la trasmissione di RTV38 dedicata ai lavori del Parlamento Toscano, il Consiglio regionale. Trasmissione che torna dopo il lungo periodo della campagna elettorale per analizzare il tema economico che è stato al centro delle recenti sedute dell'Aula del Palazzo del Pegaso, ovvero il documento di economia e finanza regionale. La nostra manovra è il DEFRA 2023, il documento che stila, che sunteggia gli investimenti che la Regione ha intenzione di fare nei prossimi anni, divisi per tema, appunto per campo di investimento. Sette aree strategiche, dall'istruzione alla sanità, ovviamente il capitolo principale, ma ancora la mobilità sostenibile, gli aiuti alle imprese. Un documento che arriva, una manovra che arriva in un momento delicato per l'economia e la finanza internazionale dopo i due anni di pandemia che hanno fatto schizzare in particolare verso l'alto i costi del nostro sistema sanitario, ma poi anche con il tema della guerra in Ucraina, l'aumento del costo dell'energia, l'aumento del costo di molte materie è prima che costringono a una serie di investimenti. Allora vediamo come la Toscana, come nel documento passato al vaglio e all'Aula regionale, vengono pensati gli investimenti della Regione per i prossimi anni. Il Consiglio regionale è approvato con 21 voti a favore e 11 contrari il documento di Economia e Finanza regionale 2023. Ad illustrare in Aula il DEFR è stato il Presidente della Commissione Affari Istituzionali, Giacomo Bugliani. Il documento si articola in 29 progetti suddivisi in sette aree per uno stanziamento complessivo di 1 miliardo e 664 milioni di cui 743 milioni destinati al 2023, 460 milioni al 2024 e altrettanti 460 milioni al 2025. Il maggiore capitolo di investimento è quello sanitario. Un testo che parte da un'analisi di un quadro economico estremamente complesso. Se il prodotto interno lordo nel 2021, nonostante la pandemia, si era attestato intorno al 6,6%, nel 2022, diversamente dalle previsioni che lo davano quasi al 5%, si è fermato al 2,2%. Un dato importante che discende dalla crisi generale delle economie avanzate, dall'aumento delle tariffe dell'energia elettrica, dall'escalation militare della Russia e che quindi impone anche al governo della Regione Toscana un'attenta analisi delle strategie per il futuro. Dal punto di vista della fiducia nei confronti quindi del mercato e delle istituzioni da parte delle famiglie si è registrato un calo considerevoli, così come un calo significativo sia avuto da parte delle imprese, soprattutto con riferimento a quelle che operano nel commercio al dettaglio. C'è da registrare che il quadro della finanza regionale in ambito sanitario ha invece tenuto. Nel 2019 c'era una situazione sostanzialmente florida da un punto di vista del bilancio regionale della sanità. Nel 2020, data la pandemia e le maggiori risorse che si sono dovute investire, è stato necessario un importante intervento dello Stato, intervento che non c'è stato nel 2021 e pertanto è stata la stessa Regione sul proprio bilancio a far fronte alle perdite e quindi alle maggiori spese che si sono dovute sostenere sul fronte sanitario per arrivare comunque ad una posizione che è attualmente in equilibrio. Permangono le politiche di investimento in alcuni settori strategici che si erano già volute intraprendere negli anni precedenti, soprattutto con riferimento agli immobili a livello regionale, con riferimento all'assetto idrogeologico, all'edilizia sanitaria o anche all'edilizia pubblica residenziale. Un piano che prevede uno stanziamento di risorse nel prossimo triennio di 1 miliardo e 600 milioni, di cui circa 750 milioni sul 2023 e oltre 600 milioni per quanto riguarda le annualità 2024 e 2025. I settori che maggiormente beneficeranno di queste risorse per gli investimenti sono quelli collegati alla sanità ma anche e soprattutto quelli collegati al settore mobilità e infrastrutture. Sia da parte dei gruppi di maggioranza che di opposizione è stata sottolineata l'urgenza di programmare investimenti importanti nel capitolo energia, anche con l'obiettivo di intervenire subito sul caro bollette. Abbiamo sostenuto il DEF, però abbiamo chiesto con forza di rivedere le linee strategiche. Per noi il primo punto di intervento deve essere la questione di carattere energetica. Servono risorse regionali da affiancare a quelle nazionali per elementi e per strumenti di produzione energetica, per abbattere i costi a cittadini e a imprese. Serve discutere rispetto al tema sanitario. Noi siamo contrari, per esempio, al sistema di riforma dell'emergenza-urgenza che rischia di mortificare i volontari e di svilire la funzione dei medici professionisti e tutti gli operatori del sistema sanitario e siamo soprattutto per fare interventi rispetto all'approvvigionamento idrico degli invasi nel territorio diffusi sia di sistema pubblico che per il sistema privato. Quindi le risposte che dobbiamo dare rispetto alle tre grandi emergenze, che comunque sono quella energetica, quella sanitaria e quella idrica, devono trovare nel nostro documento di programmazione e di finanza dei riscontri con le risorse che accompagnino il piano regionale di sviluppo che deve essere approvato quanto prima. Questo DEFRE fondamentalmente è un riciclo, un'economia circolare, quello sì, di vecchi progetti che sono stati ripresentati, ammodernati, ma che non hanno nessuna differenza strutturale con quello che c'era precedentemente. Ci sono delle emergenze in questo momento a partire da quella energetica che chiedono invece un cambio di approccio radicale che qui non vediamo nemmeno per quanto riguarda l'approccio ai finanziamenti e al bilancio. Si è proposto ad esempio, anzi si sta cercando di vendere il rigassificatore di Piombino come la soluzione all'aumento delle bollette, quando sappiamo benissimo che non è così, per le tempistiche con cui questo eventualmente verrebbe installato. Abbiamo invece la sanità pubblica che soltanto fino a settembre ha 116 milioni di bollette, quindi un aumento spropositato e a Cecina per esempio quest'estate è stato chiesto negli ospedali di portarsi un ventilatore, qualcosa da casa per raffrescarsi ai pazienti. Ecco, vedere un DEF che di fronte a questa situazione continua a essere qualcosa che sono dei semplici pannicelli calvi e delle pezze che vengono messe su una situazione molto difficile fa capire che come dal primo giorno questa giunta sta navigando a vista e prova ne è definitiva che non esiste ancora il programma strategico della regione che doveva essere il primo documento che la giunta e il presidente Gianni dovevano presentare. Si navigava vista nelle leggi, così nei bilanci, così come nelle variazioni. All'area salute è destinato il 42,6% delle risorse del documento di economia e finanza regionale ma capitoli di spesa importante sono anche quelli per istruzione, inclusione e per infrastrutture e mobilità sostenibile un punto, quest'ultimo, contestato dalle opposizioni. Un documento che ci lascia, a dire la verità, un po' perplessi. Un po' perplessi sia per la metodologia con cui viene discusso in aula che per il merito. La metodologia è alquanto strana, vi spiego perché. Questo è un documento che le tempistiche dicevano doveva essere discusso a giugno e approvato a giugno. Arriva a settembre e sinceramente ci aspettavamo che in questi tre mesi di ritardo qualcosa venisse fatto. In che senso? Purtroppo da tre mesi a questa parte è cambiato il mondo. Lo dico io, lo dicono chi sta fuori da questo palazzo. La crisi energetica è sempre più stringente, è sempre più preoccupante. Le imprese, gli esercizi commerciali, gli artigiani lo denunciano tutti i giorni. Ci aspettavamo che da parte del Presidente Gianni e della Giunta ci fosse una riflessione. Si prendessero questi tre mesi di colpevole ritardo per trasformarli in opportunità. Abbiamo sbagliato, siamo in ritardo, approfittiamone per ridiscutere nel merito il TEF. Cosa che non è stata fatta. Il documento arriva con tre mesi di ritardo, è lo stesso documento identico a giugno, come se niente fosse successo da giugno a oggi. Ed entro nel merito. È un documento che parla di possibile riacutizzarsi del fenomeno Covid e della crisi energetica dovuta alla guerra in Ucraina. Benissimo. Si fa una grande analisi del problema, si dipingono scenari macroeconomici del problema e non c'è una riga una di quello che ha intenzione di fare la Toscana tra il 2023 e il 2025 per fronteggiare queste due emergenze. Si parla di risorse, ci sono 4 miliardi da investire, il 59% di queste risorse vengono, rispettando i progetti del PNRR, ci mancherebbe altro, vengono destinati alle nuove infrastrutture per la mobilità sostenibile. Un tema importante che nessuno lo nega, ma oggi, sinceramente, se uno fa la fotografia alla Toscana e all'Italia di oggi, noi non crediamo che con 4 miliardi di risorse a disposizione la Toscana debba investire il 60% in mobilità sostenibile. Ci sono altri temi da affrontare, ben più importanti della mobilità sostenibile. Faccio un esempio, si parla di sostenere le imprese, si parla di aiuti alle imprese per far fronte alla crisi energetica. Ebbene, non c'è mezzo processo e tra il 2024 e il 2025 si destinano 160 mila euro l'anno per progetti per attrarre nuovi investitori in Toscana. È una ridicolezza, è un'elemosina di fronte a nuove risorse. Per 4 miliardi di euro, 160 mila euro destinati ad attrarre nuovi investimenti per le imprese. Per la lotta alla povertà delle famiglie toscane, per la lotta alla povertà si destinano 2 milioni quest'anno e mezzo milione di euro nei prossimi due anni. 220 mila euro l'anno, meno di mezzo milione. Cioè, noi pensiamo di fronteggiare la crisi economica e sociale con mezzo milione all'anno. Quindi questo è un documento che non serve a niente. Quindi nel merito è un documento profondamente negativo, nel metodo con cui arriva in aula rimaniamo basiti perché pensavamo che vi fosse da parte della Giunta una riflessione politica su cosa è successo negli ultimi tre mesi. Novità poche. Si continua a perseguire vecchie politiche quando il mondo è radicalmente cambiato e siamo seriamente preoccupati perché siamo a un passo dalla stagflazione, un rischio sempre più grave. La stagflazione è quella situazione in cui sono presenti ondate inflattive, aumentano i costi dei prodotti, infatti si riducono i consumi anche dei beni di prima necessità e al tempo stesso c'è stagnazione economica, cioè non cresce il PIL. Di fronte a questa situazione cosa sta facendo la Giunta? Io ho chiesto qual è la domanda da fare, che cosa sta proponendo per supportare le nostre famiglie, le nostre imprese. Io nel DOF non ho trovato praticamente nulla. È semplicemente una tattica attendista di come probabilmente sarà il nuovo governo nazionale, ma la Regione questo non può permetterselo. Noi abbiamo il dovere di attivarci, di attivarci perché tanti toscani si trovano in situazioni di difficoltà e tutto ciò è inammissibile. Quindi noi siamo pronti a fare la nostra parte, ma chiediamo una discontinuità forte anche in termini di composizione della Giunta. Ci sono assessori che non li abbiamo praticamente mai visti in aula, assessori che sono i presi degli impegni che non li hanno mantenuti. Non abbiamo ancora il programma regionale di sviluppo, non c'è il piano rifiuti, non c'è il piano acqua, non c'è il piano aria, ma cosa sta facendo la Giunta Gianni? Due anni è praticamente di fermo e la Toscana non può restare ferma. Sì, un documento che arriva in aula in un clima naturalmente preelettorale e che tradisce anche una certa tensione da parte della maggioranza. Tradisce tensione perché oggi ci troviamo di fronte non solo ad un documento che avrebbe dovuto attuare delle precise strategie regionali, soprattutto alla luce della drammatica crisi che stiamo vivendo e che oggi naturalmente si tocca sulle imprese, si tocca sulle famiglie con il caro energia. È una situazione in cui non si intravede una benché minima strategia di lungo periodo. È chiaro che di fronte a questo immobilismo non possiamo che esprimere un voto assolutamente contrario rispetto a un'impostazione che oggi appunto non vede delle risposte in modo strategico. L'emergenza energetica, l'emergenza povertà, l'emergenza sociale sono tutti temi che sembrano scivolare dalle parti della Giunta senza che però ci si faccia effettivamente carico di programmare in modo serio quelle che sono delle risorse anche importanti che però vengono molto spesso disperse in mirriboli. La strategia che noi proponiamo è invece una strategia molto pragmatica, individuare tre, quattro situazioni emergenziali sulle quali investire risorse importanti per cercare di dare risposte anche in Toscana ad una situazione che rischia davvero di portarci ad un'economia di guerra. Abbiamo sentito dunque quali sono gli investimenti programmati dalla Toscana per i prossimi anni nel documento, nella manovra Toscana nel DEFRA 2023 che è passato al Vaglio dell'Aula del Palazzo del Pegaso. Abbiamo sentito anche tutte le osservazioni, le critiche dei vari gruppi di opposizione in Consiglio. È tutto per questo appuntamento. Io vi ricordo che potete continuare a seguire i lavori del Consiglio regionale visitando il sito www.consiglio.regione.toscana.it. La nostra trasmissione invece torna come sempre la prossima settimana. Arrivederci. Grazie a tutti.